Senza i Cii nazionali in giro per il mondo, la Sampdoria è tornata al lavoro al Mugnaini di Bogliasco. Lo ha fatto con una seduta pomeridiana tra forza specifica in palestra e trasformazione sul campo 1 con esercizi in chiave finalizzazione e partitelle a tema, alla quale hanno preso parte i giovani Curito, e i Giacchi, Utovagnere Tessiore. Cobarreto, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il paraguaiano, hanno evidenziato una lesione al gemello della gamba sinistra. Il centrocampista ha già avviato il proprio programma fisioterapico riabilitativo. Sempre sul fronte dell'infermeria Jacopo Sala ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Domani, giovedì, è in agenda una doppia seduta. Videodotti e Nedved, ecco le reazioni ai sorteggi di Champions League. Grazie a tutti.